Si è svolto al Palazzo della Borsa di Genova il forum della NACI, l'Associazione Nazionale Amministratore di Condominio. Fra gli ospiti invitati a parlare, Paolo Gollo, idrologo del Centro Meteo Arpal, che ha spiegato i meccanismi dell'allerta. Anche gli amministratori di condominio, nel momento in cui applicano alcuni comportamenti e verranno anche dettati da una nuova direttiva comunale, diventano principali attori di protezione civile e se come cittadini miglioriamo il sistema di protezione civile con i nostri comportamenti tutto il sistema funzionerà meglio. Arpal ha il compito principale di fare prevenzione e previsione, prevenzione con giornate come questa e soprattutto previsione utilizzando modelli metri idrologici che possono disegnare scenari di criticità sul nostro territorio. L'allerta è il risultato di questi scenari di criticità che vengono fatti in base alle previsioni mete idrologiche e vengono diffuse utilizzando tutti i social network come Facebook e gli account Twitter oppure utilizzando il sito Allerta Liguria e il Pomirlo Online in cui uno può anche andare a visualizzare quali sono le misure sul territorio della rete in telemisura di Arpal. Grazie.